Non ho mai un'idea di cosa sia stato la Chiu. Non vedeva l'ora di tornare in Italia. Bentornato. Il gruppo è comandato da Hassan, o così si fa chiamare. Non hanno un covo. Cambiano sempre per non farsi scoprire. Quindi è impossibile seguire un raid. Risco la vita tutti e tanti giorni. Ci mancate solo voi a farmi ammazzare con le vostre cazzate. Forse è sottovalutato un po' la situazione. Forse è senza caso, è difficile. Mi stai col fiato sul collo. Non respiro. Soffro. Come controllo a coniocriti ti metterà a scoprire. Chi cazzo sei tu? Chi ti conosce a te? Chi ti dice che non sei diventato un uomo? Non accetterò più nessun errore. Via, via, via! Chi è ancora un uomo? Chi è fatto? Chi è ancora un uomo?